Ciao, sono Marius e questo è il mio minuto di recupero. Il mio soprannome è Il Greco. Se non fossi calciatore sarei un pilota di aerei. Il giocatore preferito da uomino non c'è altro che Alessandro Neste. Il mio modo di dire è che tutto passa. Se avessi un superpotere magari girerei il tempo dietro qualche volta nella mia vita. Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. Il mio film preferito è Il Top Gun. Il mio cantante preferito è Nico Svertis. Se fossi un tifoso il mio idolo nel BFC sarebbe Ciccio Brienza. Il compagno più silenzioso è lo zio Alex Ferrari, mio compagno di stanza. Il mio compagno di squadra più vanitoso di tutti è Ceccarelli. Il compagno più casinista, sono io che faccio sempre i casini. La cosa che mi piace di più a Bologna è la cucina bolognese. Chiaramente il mio momento più bello qua a Bologna è stato il 9 giugno la promozione in Serie A. Il compagno più calma di stanza. 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 Grazie a tutti.